Vi prego, non mi ringraziate. Perché? Perché non so in coscienza se lo merito. Pensate forse che la mia devozione e la mia costanza non sono del tutto indegne della decisione che avete preso. Non dovreste trascurare e diecennare anche la vostra modestia? Ora? No, sarebbe fuori di luogo. Se voi sapeste, Emma, come mi sento sicuro adesso che posso dedicarvi tutta la vita per farvi felice. Io non vi ho mai parlato di quanto abbia atteso, Emma, e di quanto in questa lunga attesa io vi sia stato vicino e vi abbia osservata. Aspettate ancora un momento. Vi prego. Ma se mi avete osservata avrete notato che fra me e... Ho capito. Ma come pensi che io potrei vivere sapendo che mio padre... ...vi ho fatto tutta me stessa. Vuoi? Dimentico tutto. Ma resta. Non è possibile. Chi potrei più guardare in volto? No, Lamberto. No.